Leggiare Si succedevano, qua e là zampillava un canto avvinazzato o il riso lascivo e insolente d'un paggio. L'imperatore, posando sul tavolo una mano sempre più malferma, murato in un'ebrezza forse in parte simulata, sperduto, lontano da tutto sull'estrale dell'Asia, sprofondava gravemente nelle sue illusioni. Disgraziatamente erano visioni piene di bellezza, le stesse che in altri tempi mi avevano fatto pensare di abbandonare qualsiasi cosa per seguire, al di là del Caucaso, le vie settentrionali dell'Asia. Quell'incantesimo, al quale l'imperatore ormai vecchio cedeva in uno stato di sonnambulismo, Alessandro l'aveva subito prima di lui. Egli aveva realizzato pressa poco gli stessi sogni e ne era morto a trent'anni. Ma l'insidia peggiore di quei piani grandiosi consisteva appunto nella loro ragionevolezza. Come sempre abbondavano le ragioni pratiche per giustificare l'assurdo, per indurre l'impossibile. Da secoli, da secoli ci preoccupava il problema dell'Oriente. Sembrava naturale risolverlo una volta per tutte. I nostri scambi di derrate con l'India e con il misterioso paese della seta erano interamente alla mercede i mercanti ebrei e degli esportatori arabi, i quali godevano la franchigia nei porti e sulle strade dei parti. Una volta annientato l'impero vasto e fluttuante dei cavalieri arsacidi, avremmo avuto contatti diretti con quei ricchi confini del mondo. L'Asia, unificata finalmente, sarebbe stata per Roma nient'altro che una provincia in più. Il porto di Alessandria ad Egitto era l'unico dei nostri sbocchi verso l'India che non dipendesse dalla compiacenza dei parti. Anche lì ci trovavamo continuamente in urto con le esigenze e le rivolte delle comunità ebraiche. Il successo della spedizione di Traiano ci avrebbe consentito di ignorare quella città insicura, ma tutte queste ragioni non mi avevano persuaso del tutto. Mi avrebbe soddisfatto di più, che so, qualche abile trattato commerciale. Entra, vedevo già la possibilità di ridurre la funzione di Alessandria, creando una seconda metropoli greca nelle vicinanze del Mar Rosso. Ciò che feci in seguito, quando fondai Antinopoli. L'Asia. Quel mondo tanto complesso cominciavo ormai a conoscerlo. I piani semplici di sterminio totale che erano riusciti in Dacia non erano attuabili in questo paese brulicante di una vita molto più molteplice, dalle radici più profonde. Da essa dipendeva inoltre la ricchezza del mondo. Al di là delle ufrate, cominciava per noi il paese dei rischi e dei miraggi, le sabbie ove si affonda, le strade che finiscono senza metter capo in nessun luogo. Il minimo rovescio avrebbe prodotto come risultato una scossa al nostro prestigio, tale che qualsiasi catastrofe avrebbe potuto derivarne. Non si trattava soltanto di vincere, ma di vincere sempre e in questa impresa. si sarebbero logorate le nostre forze dalle memorie di Adriano, di Margherita Jussernero. Signori e signori, benvenuti. Buongiorno a tutti. Grazie della vostra partecipazione. Siamo qui con il professor Andrea Giardina per dare avvio a questo ciclo di lezioni di storia dal titolo Guardando ad Oriente, voluto dalla provincia autonoma di Trento e dalla casa editrice La Terza. Inviterei adesso il dottore Andrea Robbo, l'assessore della cultura del Comune di Trento e il dottor Ludovico Stai, a nome della casa editrice La Terza, a porgere il loro saluto. Grazie. Bene, grazie. Sì, un rapidissimo saluto nel senso che mi piace come assessore al Comune di Trento mettere risalto come con oggi iniziano, un po' come fatto l'anno scorso, otto appuntamenti di grande rilevanza per la nostra città. una città che sono riduce ieri dall'inaugurazione del secondo teatro nel giro di due anni, pensando anche all'apertura delle tre biblioteche sulla città anch'esso nel giro di due anni. Quindi un evento come questo che va a inquadrarsi in una movimentazione culturale notevole della nostra città e di questo non posso che essere felice. Lo dico perché questi sono eventi che portano qualità nella città, in tutti coloro i quali oggi, di domenica mattina, sono interessati a venire e ci fanno capire come lo sforzo a partire dalla provincia autonoma di Trento e dai comuni di Trento e Rovereto, che hanno aderito molto volentieri a questa iniziativa, sono evidentemente degli sforzi ben mirati e spero da tutti voi anche accettati. Un ringraziamento a Edizioni La Terza che come l'anno scorso è riuscita a mettere insieme otto appuntamenti con storici di fama nazionale, quindi con storici che veramente ci daranno modo con questo titolo molto importante e molto suggestivo, a mio parere, di relazionarci con culture che comunque hanno sempre avuto rapporti fra di loro e credo anche nel tentativo molto difficile di proiettarci all'attualità, alla quotidianità, cercando anche di capire, di approfondire meglio quello che sta succedendo nel mondo e quindi a volte mettere anche da parte pregiudizi che se supportati da conoscenza possono essere anche messi da parte o almeno ridotti. È uno sforzo immane quello di conoscere però credo che anche attraverso questi momenti lo si possa fare tutti insieme. Permettetemi veramente di salutare anche con grande piacere un teatro sociale che la domenica mattina e non solo nelle serate abituali veramente si presenta pieno. Quindi è un bel segnale anche per la città. Buona mattinata a tutti grazie anche professore veramente per la sua partecipazione e per quello che ci saprà dire. Grazie. A mia volta un breve saluto volevo sottolineare il fatto come sapete che questo è il secondo ciclo l'anno scorso diciamo avevamo giocato più facile perché si trattava almeno apparentemente poi invece la presenza vostra di cui stamattina sta a dirmi il contrario pensavamo diciamo che i risultati dell'anno scorso difficilmente potessero essere ripetuti per il fatto che il tema dell'anno scorso era stato quello della prima guerra mondiale quindi un tema oggettivamente come dire più vicino alla storia di Trento e dell'Italia tutta naturalmente. voi invece siete qui appunto come dicevo a dimostrare il contrario volevo dire un'altra cosa quest'anno a differenza dell'anno scorso questa è una piccola nota tecnica invece che essere le prime lezioni a Trento e le altre a Rovereto su indicazione a provincia autonoma cosa che mi sembra assolutamente devo dire azzeccata abbiamo preferito alternare voglio dire Trento e Rovereto sono così vicine che evidentemente noi speriamo che ci sia un continuo travaso fra il teatro Zandonai e il teatro sociale un'altra piccolissima nota in questo momento le lezioni stanno iniziando le lezioni di storia con temi diversi anche a Bari e a Turino mi piace immaginare diciamo così questa comunità allargata diciamo di persone interessate autenticamente alla storia di cui voi stessi fate parte un'ultimissima cosa queste lezioni sono tutte lezioni originali non è sempre così devo dire appunto la terza organizza le cicli di lezioni di storia in 15-16 teatri in Italia le lezioni al teatro sociale al teatro Zandonai sono sempre state volute e pretese dalla provincia autonoma di Trento come lezioni originale mi piace che lo sappiate perché come dire sono tutte delle prime grazie molto per essere qua bene prima di dare la parola al nostro ospite è necessario è giusto e credo anche interessante conoscere un breve profilo Andrea Giardina è professore di storia romana presso la scuola normale superiore di Pisa presidente della giunta centrale per gli studi storici socio dell'accademia dei lincei e presidente del comitè internazionale dei scienzi storiche si è occupato prevalentemente di storia sociale politica istituzionale del mondo romano di storia della storiografia moderna e di storia della fortuna dell'antico in età contemporanea tra le sue pubblicazioni va ricordato Cassiodoro Politico per le edizioni Lerma di Brechtneider Roma Caputmundi una città tra dominio e integrazione per la colana Mondadori Eletta e altre molte altre pubblicazioni dirige l'edizione delle varie di Flavio Magno Auriello Cassiodoro per le edizioni Lerma di Brechtneider il professor Andrea Giardina grazie anche grazie per aver scelto per il magnifico per una magnifica pagina delle memorie di Adriano Orienti Romani perché il plurale è d'obbligo se parliamo appunto del rapporto tra Oriente e Occidente al tempo dei Romani quindi non uno ma molti orienti il percorso che io propongo non è l'unico possibile non è quello obbligatorio è quello che ho scelto io per voi sperando questa mattina di compiere insieme un viaggio che possa interessarci tutti ripeto il tema è talmente ricco che può essere affrontato da varie prospettive e quella che io ho scelto è la mia e spero che non sia troppo faziosa è una materia enormemente complessa io ho avuto già l'esperienza di parlare una volta qui a Trento al Festival dell'economia e credo quindi di aver saggiato questo pubblico e posso dire so benissimo questo non è un pubblico a cui uno deve rendere le cose semplici non è questo quello che sono sicuro che vi aspettate da me credo che sia lecita aspettarsi non da me ma da chiunque parli di problematiche complesse di rendere chiara la complessità e di non semplificarla vediamo se ci riesco ora io vorrei cominciare subito sperando che non voi offendiate inquadrando una mappa dell'impero romano ci fai vedere una mappa dell'impero romano lo sappiamo la geografia in realtà riserva sempre qualche sorpresa devo dire anche a me che questa carta dell'impero romano non so quanto ne avrò visto in vita mia tutto dipende dal punto di osservazione dentro il quale noi ci collochiamo questo è l'impero romano al tempo di Augusto al tempo di Augusto aveva circa 60 milioni di abitanti poco meno dell'attuale popolazione dell'Italia quindi in confronto a oggi possiamo dire che era una realtà spopolata per i parametri dell'epoca era invece un territorio molto affollato le dimensioni erano notevolissime perché questo spazio la spazio che avete da qualche minuto sotto gli occhi comprendeva grossomodo una trentina di stati odierni in Europa in Africa e nel vicino Oriente ma se noi mettiamo questa mappa a confronto per esempio con la mappa degli Stati Uniti d'America constatiamo che lo spazio è grossomodo lo stesso quindi il grandissimo immenso impero romano occupava un'area territoriale corrispondente a quella degli Stati Uniti questa sorpresa da che cosa io sono sicuro che forse sono rimasto sorpreso quando l'ho constatato dipende dal fatto che noi psicologicamente emotivamente percepiamo diversamente la grandezza dell'impero romano perché non solo noi naturalmente la potenza la durata la civiltà la fama nei millenni ci fanno immaginare un impero enorme uno dei più grandi imperi che si sono mai esistiti dal punto di vista anche territoriale quindi dimensioni gigantesche come gigantesca è la fama di questa entità non è così naturalmente ma non ci dobbiamo meravigliare nel senso che la geografia è sì un fatto molto preciso oggi addirittura si possono misurare le distanze al millimetro ma è direi da storico forse soprattutto un fatto mentale sono spazi che noi costruiamo che noi immaginiamo dentro di noi comunque qualunque spazio va relativizzato e questa entità che avete sotto gli occhi e la sua corrispondente per dimensioni entità che chiamiamo impero romano era all'epoca comunque una dimensione possiamo dire statuale un'entità politica amministrativa di dimensioni enormi per il pianeta dell'epoca comunque questo spazio qui siamo nell'età di Augusto era uno spazio che aveva raggiunto già i suoi limiti diciamo difficilmente superabili insomma era uno spazio che non poteva essere allargato tenendo presenti il popolamento l'economia il livello tecnologico le risorse naturali gli aspetti fondamentali considerando tutti questi aspetti noi ragionalmente possiamo dire che non c'erano possibilità ulteriori di espansione andare oltre queste dimensioni si liberò impossibile Roma non riuscì a espandersi verso Oriente nel continente europeo verso la grande Germania e poi verso le pianure che portano verso l'Europa centrale non riuscì a conquistare l'impero dei parti che vedete immaginiamo alla vostra destra la parte dello schermo cioè la regione che dalla Persia si estendeva fino alle Eufrate e all'Indo in Africa raggiunse soltanto la fascia settentrionale non riuscì a penetrare nel Sahara e nelle aree subsahariane a Occidente quindi la via che poi avrebbe portato Cristoforo Colombo alle Americhe era preclusa da fatti tecnologici cioè la possibilità della tecnica avaria dell'epoca e anche da condizionamenti mentali quindi questa era la realtà un impero possiamo dire secondo un'espressione che oggi va di moda globale globale tenendo presente che questa era la globalità possibile il caso dell'imperatore Traiano che abbiamo prima sentito evocare è molto indicativo qui vediamo Traiano in questa statua da colonia Ulpia Traiana in Germania nella Renania settentrionale da Xanten considerato fin da bambini abbiamo avuto nelle nostre scuole l'impero romano all'epoca della sua massima espansione Traiano peccato che quell'espansione è durata pochi mesi Traiano è considerato certamente un grandissimo imperatore un imperatore ottimo come dicevano gli antichi ma già gli autori antichi lo criticavano alcuni autori antichi lo criticavano per aver con le sue conquiste spropositate Traiano ha conquistato la Dacia certamente quindi anche quello era oriente l'Europa centrale ma poi si è spinto fino al Golfo Persico gli antichi lo criticavano perché era stato un imperatore entusiasta da questo punto di vista militare e aveva quindi stressato l'impero lo ha sottoposto a uno stress tale che ha da provocare effetti significativi negli anni successivi come noi vediamo chiaramente Roma aveva l'Oriente dentro di sé però le presenze romane in Oriente sono certamente molto più ampi di quanto questa carta possa rappresentare io per costruire un itinerario vi propongo un procedimento forse inconsueto cioè gettiamo il nostro sguardo subito verso il limite più estremo e riavviciniamoci poi verso gli ambienti a noi più familiari c'è questi spazi dell'Europa e del Mediterraneo quindi dov'è appunto dov'è che possiamo lanciare il nostro sasso diciamo così concettuale beh verso l'estremo oriente naturalmente presenze il concetto di presenza è molto vario è un concetto diciamo plurale ci sono presenze di oggetti e ci sono presenze di uomini e queste vanno distinte l'una dall'altra gli oggetti romani che più hanno viaggiato nel mondo anche verso l'estremo oriente sono le monete e sono note da qualche decennio monete romane che sono state trovate in Vietnam nel delta del Mekong noi non deduciamo nessuno credo deduca dalla presenza di un numero consistente di monete romane nel delta del Mekong l'idea che i romani mercanti romani quindi cittadini dell'impero romano o abitanti dell'impero romano che parlassero retine greco o greco fossero attivi in quelle zone no gli oggetti viaggiano spesso per conto loro indipendentemente dalla presenza fisica della come dire della cultura di riferimento però questa è una scoperta ecco credo che forse i giornali non ne hanno parlato ma è una scoperta abbastanza recente risale da alcuni anni fa e credo che sia ignota ai più e se qualcuno la conosce non alzi la mano se no faccia una brutta figura insomma però qui siamo pensate a 9.000 chilometri da Roma 9.000 chilometri da Roma cioè siamo nella nell'isola di Okinawa la vedete appunto sulla mia sinistra è un'immagine molto bella la vediamo appunto qui quasi dispersa tra il mar cinese orientale e l'oceano pacifico qui siamo oltre 600 chilometri a sud del Giappone e qui alcuni anni fa sono state trovate in questo questo l'area dello scavo nell'area insomma archeologica di uno scavo medievale quattro monete romane risalenti all'età dell'imperatore Costantino come vedete sono mal ridotte però le tecniche moderne consentono di comprendere con assoluta certezza che quella testa un po' consunta che vedete anzi parecchio consunta che vedete è quella dell'imperatore Costantino nemmeno in questo caso dobbiamo immaginare che mercanti romani fossero arrivati a Okinawa è assurdo sono arrivati questi oggetti monete passate di mano in mano non sappiamo quanti passaggi per arrivare dal Mediterraneo attraversare tutta l'area centrale e finire lì in quell'isola sperduta non avevano queste monete valore intrinseco quindi non era un valore naturale insomma del peso del metallo che rendeva interessanti erano monete di basso valore d'acquisto però dovevano essere per l'Oriente oggetti esotici che parlavano di un potentissimo impero lontano chissà dove irraggiungibile che lanciava questi suoi piccoli meteoriti minuscole dall'altra parte del mondo erano cose dell'altro mondo queste monete in senso proprio tecnico come arrivarono furono portate via mare dall'India oppure transitarono lungo la via della seta che qui vedete che attraversava tutta l'Asia per giungere poi in Cina e di lì arrivarono in Giappone non lo sappiamo non lo sapremo mai in una fonte storiografica cinese importantissima che viene detta dagli studiosi degli Han posteriori si legge che durante il regno dell'imperatore Wan-Ti l'imperatore cinese Wan-Ti quindi siamo nella seconda metà del secondo secolo dopo Cristo quindi grossomodo non lontano dal tempi dell'imperatore treiano il re di una regione chiamata Tazin cioè l'impero romano un re chiamato Antun Antun è la resa cinese di Antonino ma non è Antonino Pio e Marco Aurelio che si chiamava appunto Marco Aurelio Antonino in quell'epoca giunse in Cina un'ambasceria romana mandata dall'imperatore appunto Antun che portò in dono all'imperatore cinese oggetti come appunto pezzi di avorio corna di rinoceronte e qualche conchiglia che cosa possiamo trarre da questa notizia preziosa ma così poi in fondo esile ma la prima cosa che ci colpisce è che sono doni troppo modesti per essere inviati da un imperatore romano all'imperatore cinese che questa ambasceria non aveva alcuna rilevanza perché nelle fonti romane non ce n'è traccia e che passi sicuramente si tratta di mercanti provenienti da aree romane o dimitrofe dell'impero romano che si recarono in quella zona dell'impero cinese accreditandosi come ambasciatori del grandissimo imperatore romano ma che tali non erano quindi cosa abbiamo cominciamo a vedere poche presenze abbiamo presenze di oggetti e presenti di individui che si accreditano come romani senza esserlo dobbiamo aggiungere un'altra presenza tipo di presenza è che la presenza immaginaria che non è meno forte non è meno decisiva di quelle che abbiamo appena ricordato nella cittadina cinese di Zelaizai che si trova nei pressi del deserto dei Gobi e quindi nella Cina settentrionale si trova questo monumento che noi non ammirerete certo per la sua bellezza ma non è che dobbiamo forza risosmarsi per le cose belle costruito negli anni 90 quindi un monumento recente che rappresenta vedete al centro un mandarino con la sua lunga veste alla sua destra una donna musulmana e invece a sinistra un guerriero romano con i capelli ricci e la sua tipica armatura romana una targa marmorea ai piedi di questo gruppo statuario dice Likian abbraccia il suo passato Likian è il distretto dove si trova la cittadina questo monumento accoglie per motivi un po' turistici un po' anche per orgoglio locale due cose spesse vanno insieme un'ipotesi avanzata da uno studioso americano secondo il quale nel 53 avanti Cristo dopo la terribile battaglia di Carre oggi Haran in Turchia verso l'Iran appunto combattendo contro i parti Crasso fece subire all'esercito romano una delle più gravi sconfitte della sua storia un massacro totale pochissimi superstiti secondo la teoria di uno storico americano alcuni di questi regionari superstiti finirono in una cittadina dell'Iran lì questa cittadina sarebbe stata poi conquistata da un imperatore cinese che avrebbe deportato questi regionari appunto in quel remoto villaggio della Cina questa ipotesi secondo chi la sostiene è accreditata da alcuni indizi e dal fatto che in quella zona la zona dove trovate questo monumento la gente del luogo non ha caratteristiche somatiche orientali diciamo di tipo appunto che ricordino vagamente una etnia cinese ma hanno caratteristiche occidentali cioè capelli chiari occhi azzurri lineamenti appunto delicati e così via ora ha avuto un enorme successo questa teoria romanzi documentari pseudostorici poi la storica retorica del mistero che abbonda nelle cattive divulgazioni televisive o anche saggistiche il mistero l'ultima legione e cose di questo genere è molto controversa questa questa l'attendibilità di questa notizia diciamo che gli elementi che sia autentica questa interpretazione sono molto scarsi ma perché è importante e perché ne sto parlando da qualche minuto perché testimone un altro tipo di presenza romana in oriente ed è la presenza del mito di Roma il mito di Roma è talmente forte e talmente forte da suscitare non soltanto nella cultura occidentale ma anche nella cultura locale appunto entusiasmi che portano alla dedica di una targa dove si dica Lichian abbraccia il suo passato e questo passato è un passato romano ma altri tipi di presenza questa volta in una fonte letteraria greco e greco greco romane sostanzialmente gli autori romani di lingua greca e latina parlano spesso di una popolazione chiamata Ceres derivata dall'identica parola greca appunto Ceres è un etnico di natura funzionale perché rimanda alla seta ancora oggi diciamo Serico per indicare una stoffa o materiale insomma che ricorda la seta o è di seta gli antichi romani gli antichi greci parlavano molto dei Ceres sapevano che a Oriente nell'estremo Oriente c'era questa popolazione ma ne parlavano in un modo molto idealizzato e favolistico perché i cinesi sono rappresentati molto diversamente da come immaginiamo noi oggi o come li vediamo noi oggi come un popolo mite gentile schivo timido che rifiuta i contatti puro nei suoi costumi che quindi non ama entrare in contatto con la gente che viene da luoghi diversi e soprattutto non ama entrare in contatto con mercanti perché i mercanti portano sì merci ma portano anche parole che spesso sono parole false parole insidiose mistificano e quindi adottano questi seres una pratica antropologica che è attestata in varie parti del mondo e che gli antropologi chiamano il baratto silenzioso c'è una forma di scambio in zone di confine in Africa in Asia soprattutto una forma di scambio che avviene silenziosamente senza scambio di parole perché nella parola c'è l'insidia c'è la corruzione si depone un oggetto ci si ritira di solito questi oggetti vengono deposti in foreste in zone marginali lungo i fiumi la controparte deposti di altri oggetti se si arriva a una intesa diciamo muta vengono prelevati gli oggetti altrui e avviene lo scambio ecco il baratto silenzioso è tipico di una popolazione mite riservata che non vuole avere troppi contatti quindi è un popolo questi seres sono un popolo che viene rappresentato come amante della giustizia come pochi altri questo è molto tipico i popoli lontani i popoli di cui si ha notizia ma di cui non si ha conoscenza sono rappresentati in due modi normalmente o come mostruosi creature mostruose feroci pericolose questi popoli diciamo lontani poco noti spesso sono cannibali vengono rappresentati come cannibali oppure all'opposto sono idealizzati come popoli straordinari per la loro bontà abbandoniamo l'estremo oriente quindi come vi avevo promesso avviciniamoci al mondo romano tenendo presente che io non potrò accennare per esempio ai rapporti tra Roma e l'India che richiederebbe da sola da soli richiederebbero una lezione e quindi seguo un mio percorso questo avvicinamento adesso al mondo militerraneo e all'Europa consente di apprezzare un altro tipo di presenza romana in Oriente questa volta si tratta di ecco è la prima volta che le vediamo che le vedremo fra poco fra un istante di effettive presenze di romani romani col bollo doc insomma se fosse possibile col tatuaggio SPQR e quella che vedete è vero che si legga qualcosa adesso comunque vi dirò quello essenziale che c'è da dire questa è la più questo è un dato scientifico insomma è la più orientale delle iscrizioni latine è il luogo di massima penetrazione oriente della lingua latina per come possiamo conoscere come c'è testimoniata è sconosciuta insomma ai non addetti ai lavori e credo anche a molti colleghi e questo questo testo è stato ritrovato vedete inciso su una roccia sedimentaria non lontano dalla moderna città di Baku adesso io purtroppo sono qui un po' acciacato dei fari però non so se voi percepiate il segnale rosso destra in alto della carta vicino alla città moderna di Baku nell'odierno Azerbaijan questa iscrizione in latino recita è datata è datata per fortuna ci dice che all'epoca dell'imperatore domiziano cesare augusto germanico un tale Lucius maximus poi in basso abbiamo leg legionis due decime fulminate la famosa legione dodicesima fulminata fulminata non come ha detto un collega americano perché era stata colpita dal fulmine perché i romani erano molto più superstiziosi e più superstizioso dei dei napoletani e certamente presentarsi come la legione che era stata colpita dal fulmine era più semplicemente e più logicamente una splendida legione che aveva come insegna il fulmine connessa poi la figura anche di Girocesare quindi velocità rapidità e capacità di colpire inesorabilmente in tempi rapidi ecco qui siamo agli estremi del mondo toccato sicuramente da presenze fisiche dei romani per come noi possiamo tutti affidati a questa iscrizione pensate se non l'avessimo questa è una guarnigione questo è un centurione questo signore è un con bel nome Lucius Iulius Massimo questo è sicuramente un italico quindi noi diciamo romani ma molti di questi regionali molti di questi soldati erano appunto provenivano da qualche regione italica era una guarnigione romana non dobbiamo immaginare grandi quantità di soldati spesso anche il mondo degli imperi moderni ci fa capire che per segnare militarmente una presenza in un luogo imperi potenti hanno bisogno di una piccola guarnigione che presuppone però la possibilità di che arrivino insomma altre armate una piccola guarnigione di romani e questo centurione per gentilezza nei nostri confronti ha voluto lasciare il suo nome datando l'iscrizione al regno dell'imperatore domiziano quindi siamo tra l'81 e il 96 dopo Cristo mettendo il suo bel nome e anche il suo bel corpo di appunto appartenenza cos'è importante? è importante perché qui siamo in una zona cruciale oggi sapete il caucaso è naturalmente una delle zone più è stata anche una zona delle zone più tormentate e massacrate della storia contemporanea se non altra per la guerra in Cecenia e non solo e lì in quella zona di Baku si controllavano le famose porte caspie che in quel grande dedalo in quella sorta di labirinto gigantesco che era il caucaso che erano le montagne del caucaso c'erano dei pochi passaggi un passaggio era quello appunto denominato Porte Caspia che stava sul versante del Mar Caspio dove era stata scolpita questa iscrizione ora un altro passo per esplorare il tema degli orienti romani ci porta ci porta direttamente invece dentro al problema delle origini di Roma noi non sappiamo quando i romani cominciarono a dire e a credere che i loro pregenitori venissero da Oriente cioè della città di Troia che come tutti sapete sta nell'odierna Turchia e inventarono come tanti altri popoli del pianeta un loro mito delle origini il consolidarsi in un popolo di queste forme della possiamo dire della autocoscienza collettiva non corrisponde mai a eventi precisi non si dà una critica diciamo di tipo storico concreto di fenomeni come questo non possiamo accertare l'origine di un mito delle origini se uno va a fare una cosa folla si metta a cercare l'origine di un mito delle origini noi sappiamo quando ci appare noi sappiamo che nel IV secolo a.C. lo sappiamo con certezza già il mito troiano circolava dell'origine troiana di Roma circolava a Roma e nel centro Italia certamente quello che possiamo escludere possiamo escludere che nessun gruppo di turchi diciamo per usarla un'espressione colloquiale insomma di popoli provenienti dall'attuale Turchia sono pervenuti in Italia e abbiano dato origine a Roma questo non è mai accaduto però per i romani cominciò a essere questa la versione autentica ora i miti delle origini sono quindi invenzioni sono fantasie sono memorie costruite ma pur essendo fittizi o anzi potrei dire proprio perché sono fittizi sono molto potenti sono molto potenti possono avere una grande forza storica una volta che si radicano e che prendono consistenza per cosa vuol dire essere discendenti dei troiani cosa vuol dire avere origini orientali stiamo parlando di orienti di orienti occidente di orienti romani parliamo di un popolo allora che aveva origini orientali che proclamava di avere origini orientali e che era fiero di avere queste origini orientali che vantaggi aveva ora non è quando dico che vantaggi adotto vedete un criterio un po' sto un po' smettendo quello che ho detto prima un criterio un po' un po' volgare diciamo non forse la parola vantaggio non è quella giusta perché ripeto sono fenomeni un po' mistici questi però insomma ci siamo intesi che vuol dire essere origini troiani vuol dire innanzitutto rinviare le proprie origini a un evento tra i più importanti della storia universale dell'epoca cioè la guerra di Troia la guerra di Troia è per importanza come evento qualcosa di paragonabile al diluvio universale in versione diciamo più storica più storicamente determinata è la guerra più grande ed era una guerra nobilitata dai più bei racconti che la storia dell'uomo avesse inventato fino allora e possiamo dire possiamo dirlo senza essere dei fanatici di Omero che in assoluto l'Iria dell'Odissea sono i racconti più belli che l'uomo essere umano abbia mai inventato da quando ha cominciato a raccontare e a scrivere quindi già collegare le proprie origini a quell'epopea e a quei racconti al mondo a quei viaggi a quelle storie di eroi era già molto nobilitante era quindi un evento meraviglioso drammatico periodizzante perché scandiva la storia dell'umanità si poteva uscire da quella narrazione da vincitori come i greci o da vinti come i romani troiani ma era comunque nobilitante altri vantaggi vedete dirsi figli dei troiani per i romani quindi profughi dall'Oriente profughi dall'Oriente era l'esatto opposto di quello che facevano gli Ateniesi e gli Ateniesi si dicevano figli della terra figli della terra vuol dire che gli Ateniesi erano nati dalla terra quindi dall'Attica erano nati dall'Attica generati dal suolo stesso dell'Attica quindi è il mito più estremo dell'autoctonia è un mito molto esclusivo o sei se sei Ateniese sei nato dalla terra sei discendente di gente nata dalla terra appartieni a quel luogo e solo tu solo quel luogo appartiene solo a te se vieni dall'Oriente è diverso lì siamo in una versione esattamente opposta non è il massimo dell'autoctonia ma è il massimo della eteroctonia vieni da un mondo non solo lontano da un mondo finito da un mondo distrutto da un mondo sperduto da una galassia scomparsa e questa è la diversità tra Roma e Troiani si dice spesso anche nell'immaginario che abbiamo che spesso ci viene ripetuto che i greci sono fantasiosi i romani sono empirici sono quelli che fanno bene i ponti le strade cosa anche vera è peraltro molto apprezzabile ma quanta fantasia anche i romani non scherzavano ci appare un dato in questo rapporto tra Oriente e Occidente collegato alle origini di Roma ci appare un dato straordinario che ci fa comprendere in poche parole che cos'è la romanità la romanità è un misto di armonico di contrasti di contraddizioni di contrasti perché i troiani sono certamente sono certamente figli orientali quindi hanno genitori antenati esotici se avete occasione di rileggere Denei di Virgilio in particolare i numerosi passi in cui Virgilio mette in scena i troiani e li contrappone ai latini i troiani appena arrivati in Italia e li contrappone ai latini i troiani di Enea lui li rappresenta li rappresenta vestiti all'orientale quindi con perché Virgilio è molto in Vigilio è un incanto naturalmente ma è anche capace di rappresentare con pochi versi colori costumi pennacchi l'esotico diciamo in Italia è rappresentato dai troiani ma questi troiani così strani che vengono percepiti dai latini come strani e quindi guardati con diffidenza sono al tempo stesso familiari perché hanno le virtù portano le virtù che avrebbero fatto avrebbero fatto fatto grande i romani prima fra tutti per come la incarna Enea la Pietas qui abbiamo una delle più belle pitture pompeiane nota a tutti questo Enea Enea ferito alla gamba e viene curato il figlio Ascaneo accanto a lui piange e poi in alto a sinistra la Dea Venere protettrice e cos'è la Pietas la Pietas è tante cose insieme questo è il fascino della lingua latina il fascino straordinario della lingua latina sono le nostre stesse parole Pietas Pietà religio religione res pubblica repubblica è la nostra lingua naturalmente così come non è affatto vero naturalmente che il latino è una lingua morta così latino se io dico recito i primi versi del Debello Gallico di Cesare Gallia è divisa in parte stress credo che anche un extracomunitario arrivato l'altro ieri che ha un po' l'italiano in mente sa che una certa cosa è divisa in tre parti no? non è una lingua morta è una lingua che si parlava a quell'epoca bene però sono rimasti queste parole uguali alle nostre potrei continuare a lungo con queste parole identiche piccolo particolare se la Pietas non è la nostra pietà la religione dei Romani non è la religione dei Romani non è la nostra religione la Repubblica dei Romani non è la nostra Repubblica per me non lo è totalmente la famiglia dei Romani non è la nostra famiglia questo secondo me è l'incanto di chi studia queste cose cioè lavorare su parole identiche e man mano più ci si lavora più si scopre che dentro c'è un mondo sì familiare ma al tempo stesso lontano e questo è molto drammatico molto intellettualmente è molto bello è molto suggestivo mi avviso il rapporto con la lingua è davvero una cosa più importante più fascinosa è come un viaggio in un microcosmo che apre e apre continenti e cosa dice Cicerone la Pietas è dice giustizia erga parentes Pietas nominator la Pietas è la giustizia verso i genitori oppure dice ad versus Deus verso gli dei ecco Enea incarna l'ideale romano della Pietas che appunto porta a essere giusti verso i genitori Enea è quello che porta il padre Anchise sulle spalle cerca di salvarlo ma anche verso gli dei perché Enea agisce in virtù di un rapporto privilegiato e devoto con gli dei quindi sono strani questi questi troiani non possono non esserlo si vestono in maniera strana vengono da un mondo un po' inquietante come l'Oriente è sempre un po' inquietante per i romani però sono anche talmente familiari da essere da incarnare le tipiche virtù romani Enea poi la figura ideale da questo punto di vista perché era un guerriero anche eroico vedete che addirittura si fa operare appunto senza appunto senza mostrare il minimo turbamento e quindi è coraggioso è forte è un guerriero però appunto è al tempo stesso un uomo mite e tenero verso il padre e verso i figli da punto di vista politico queste origini orientali per i romani erano importanti anche perché non avendo parenti parenti diciamo consanguinei non avendo popoli consanguinei in nessuna parte del mondo perché Troia ormai era scomparsa c'era un piccolo villaggio era rimasto che non diceva quasi nulla avendo appunto non avendo parenti non avendo consanguinei non avendo comunanza di stirpe con altri popoli Roma era libera di integrare e nell'impero romano nella costruzione dell'impero romano già appunto in età repubblicana con le prime province le prime conquiste mediterranee in oriente in occidente Roma ha proceduto a integrare i popoli escludendo gerarchie etniche non questi sì e questi no perché questi così ragionavano i greci sono consanguine i romani non amavano parlare di stirpe di sangue contrariamente a quello che si possa pensare anzi è un concetto proprio alieno alla loro mentalità importava la fedeltà a Roma importava la storia la sottomissione l'accettazione della civiltà romana la fedeltà ma non la consanguinità la stirpe e siccome quel quel quid appunto che veniva da Troia era mistico non era intracciabile nel mondo nel panorama militerraneo o dell'Anatolia o altrove era era talmente forte questa questa appunto questa forza al tempo stesso evanescenza della provenienza orientale che consentiva di integrare liberamente laddove gli atenesi nati dalla terra evidentemente procedettero in maniera totalmente diversa ora possiamo fare una piccola così pausa no non intendo dire che adesso ci andiamo al bar per carità una pausa mentale e fissare un punto cioè abbiamo di fatto esplorato in questa seconda parte del discorso prima abbiamo parlato delle proiezioni insomma della delle presenze romane addirittura fino all'altra parte del mondo in Cina in Giappone poi adesso abbiamo parlato del dell'esotismo che era dentro Roma mescolato alla alla familiarità ecco quello che possiamo dire che i romani se parliamo di orienti romani i romani avevano una eccezionale capacità di naturalizzare l'esotico questo è una caratteristica che io non riscontro in nessun altro popolo della terra questo rendere domestico l'esotismo la lontananza la stranezza a Roma sul percorso della via Ostienze poi in prossimità di Porta San Paolo c'è un monumento che ci porta all'ultimo passo di questo percorso che stiamo svolgendo insieme ed è questo è forse quello più che più parla ai nostri giorni non è necessario che tutte le cose che ci siamo detti debbano per forza avere una ricaduta attuale che ci insegna non è questo il mestiere dello storico tutta la storia insegna qualcosa e non è che ogni volta dobbiamo andare ad attualizzarla però quello di cui sto per parlare è forse il tratto che più parla ai nostri tempi ed è questo come i romani hanno inventato l'orientalismo cioè quella particolare modo di vedere e di agire attraverso il quale la cultura occidentale ha imposto il suo dominio sull'Oriente un dominio spesso politico militare ma anche culturale ha creato una sua immagine dell'Oriente fatta di inquietudine imbarazzo riprovazione e al tempo stesso fascinazione repulsione verso un mondo lontano un po' corrotto dove dominano piaceri e altri comportamenti appunto socialmente e moralmente eversivi ma al tempo stesso attrazione enorme per tutto questo quindi questo è in sostanza uno dei tratti fondamentali dell'orientalismo quello che vediamo è il monumento chiave lo conosciamo tutti ma vale la pena di rivederlo questa è la famosa piramide che è costruita tra il 18 e il 16 avanti Cristo da un personaggio in un certo rilevo Gaio Cestio e Pulone questo è uno splendido monumento che è anche per le sue proporzioni perché è alto 30 è largo 30 metri e ha un'altezza di 37 metri quindi ha quella forma cuspide che vedete che spicca con il suo candore soprattutto dopo il restauro orienti e occidenti questo restauro forse già lo sapete questo naturalmente è stato dono di uno generosissimo e schivo mecenate giapponese il quale ha finanziato questi restauri molto costosi non si è trattato soltanto di ripulire ma anche di consolidare il monumento che è della straccia di cedimenti e questo questo splendido signore che appunto ha innamorato di Roma ha innamorato della piramide ha voluto fare questo dono alla città ha voluto anche restare ai margini di tutto questo è molto molto schivo e molto molto riservato bene questo questo monumento è uno dei tratti caratteristici della città di Roma con quel marmo bianco di luni che ha secondo le luci del giorno può assumere colori grigi bianco bianchi quasi assoluti grigi rosa gialli dipende da come il sole batte su di lui a Roma esistevano altre piramidi sappiamo che ce n'erano almeno quattro ed è proprio nel primo secolo a.C. che Roma entra in contatto diretto con l'antichissima civiltà egizia ora l'Egitto tecnicamente non è proprio oriente l'Egitto è Africa però allora come oggi la percezione che si ha dell'Egitto è quella di una terra orientale poi non è neanche del tutto sbagliata questa percezione è percepito era percepito ed è percepito ancora oggi come un paese orientale l'incontro che segna l'irruzione dell'Egitto a Roma si ha nel 46 a.C. quando Cleopatra la famosa appunto regina di Egitto ha già un rapporto con Giuro Cesare ed entra a Roma entra a Roma viene ospitata nella residenza di Cesare a Trastevere e Cesare la ricopre di onori la sua presenza suscita perplessità perché ha una corte esotica perché è una donna regina quindi che suscita nei romani parecchi inquietudini e quindi la sua presenza attrae e al tempo stesso suscita perplessità moralismi e cose di questo genere un altro momento importante della penetrazione dell'Egitto in Roma è dopo la battaglia di Giazio del 31 a.C. con la quale Ottaviano cioè il figlio dottivo di Cesare sconfigge Antonio e Cleopatra si ha una inondazione di cultura egizia a Roma noi la percepiamo soprattutto attraverso i suoi resti materiali quindi abbiamo stati di divinità di faraoni sfingi obelischi strappati ai contesti originari in Egitto vengono trasportati a Roma e si fondono con che cosa con oggetti egiziani fabbricati in Italia si tratta di piccoli soppellettili o di statue e ancora si fondono con oggetti fabbricati in Egitto per la committenza romana quindi questa marea di monumenti e di oggetti di varie dimensioni segnano la nascita quella che viene chiamata comunemente Egittomania l'Egittomania è di sorto si fa risalire agli anni successivi alla campagna napoleoniche in Egitto ma è già un fenomeno romano di questa Egittomania fanno parte certamente le piramidi egizie che erano segni collegati al culto regale alla divinità solare Ra vediamo Ra il sole del mezzogiorno con il disco solare questa magnifica pittura viene dalla valle delle regine Luxor il sole di cui Ra era l'incarnazione sulla terra il faraone poi era l'incarnazione sulla terra scusate di Ra erano a conoscenza i romani di questo significato egizio della piramide il fatto che la piramide fosse collegata a un culto solare ma forse i più colti sì insomma ma non era questo indispensabile per il successo dal punto di vista monumentale il segno che più ha caratterizzato la Roma la Roma antica e ha caratterizzato poi il paesaggio urbano di Roma durante il rinascimento grazie anche al modo in cui i papi accolsero questi monumenti e ancora oggi la Roma contemporanea sono gli obelischi a Roma ce ne sono tredici per esattezza ce ne sono tredici che in alcuni tra i più bei luoghi della città questo vediamo appunto il primo abelisco a essere portato a Roma fu portato per volontà di Augusto che lo utilizzò come meridiana di un orologio solare e lo vediamo oggi in piazza Montecitorio a Roma poi ce ne sono altri che è facile riconoscere questo è piazza San Giovanni in Laterano che avendo 30 metri di altezza essendo un monolite è il più grande monolite del mondo quello di piazza del popolo quelli di piazza Navona quelli più piccoli di piazza del Pantheon e poi questo delizioso che tutti conosciamo di piazza della Minerva recentemente vandalizzato tra i tanti vandalismi che colpiscono la città ormai in totale abbandono con Augusto l'obelisco fu usato anche come questo è un plastico tendibile del Circo Massimo se vedete al centro della pista la cosiddetta spina che separa i due percorsi della gara dei carri al centro c'è un obelisco che diventa elemento caratterizzante del Circo Massimo e poi anche di altri Circhi anche qui l'obelisco è un significato astrale e là adesso non posso dilungarmi la gara dei carri nel Circo aveva tutto un simbolismo sorale e astrale che doveva essere abbastanza noto ai Romani questo diciamo questa inondazione di oggetti non riguarda soltanto Roma riguarda anche l'Italia riguarda Pompei riguarda tante altre città i mosaici i mosaici sono un tipico i mosaici egittizzanti sono un tipico fenomeno della cultura dell'epoca il più grande sono circa 20 metri quadri è quello di Prenesse oggi Palestrina con le sue scene nilotiche questi sono dei particolari riproducono in maniera ideale ideale scene appunto di vita naturale e umana nel delta del Nilo questo appunto questo è un esempio di grandi dimensioni e di enorme pregio poi ci sono piccoli mosaici sempre con scene di questo genere o di riferimento immaginario o più realistico all'Egitto fanno sì che una studiosa moderna aveva parlato con un'espressione divertente insomma di un Egitto tascabile alla portata di molti l'imperatore Adriano appunto che è stato ricordato prima dedicò appunto all'Egitto un lungo un lungo viaggio insieme con gli oggetti con i monumenti arrivano gli dèi gli dèi che entrano prepotentemente nella religione romana ma la religione romana ha quest'altra caratteristica di naturalizzare l'esotico anche dal punto di vista più apparentemente più delicato che è appunto il culto divinità orientali entrano precocemente nella religione romana già in epoca arcaica ma in età imperiale si ha una seconda esplosione di queste presenze in particolare collegate per esempio con la con qui vediamo con Adriano la villa Adriana il fatto che Adriano abbia voluto in questa sua splendida residenza riprodurre un canopo cioè come il corso d'acqua che si trovava appunto in Egitto nel delta del Nilo circondandolo con statue egizie o un serapeo anche questo diciamo così idealmente portato dall'Egitto e ancora sempre in questo periodo questa splendida statua di Iside romanizzata Iside è una dea tipicamente egiziana che a Roma si naturalizza rapidissimamente la religione e di solito in tutte le culture del mondo è il fenomeno più conservativo cioè ciò che cambia più lentamente con più difficoltà e per ovvi motivi sono i culti e la religione a Roma non è così a Roma le presenze straniere di divinità non solo greche ma in questo caso orientali o addirittura egizie sono numerosissime e la rapidità con cui vengono accolte integrate nei culti ufficiali sono enormi questa magnifica statua che si trova nel secondo secolo dopo Cristo si trova al museo capitolini rappresenta Iside una divinità della quale effettivamente c'era bisogno perché una divinità sì soccorrevole e materna i romani ne avevano di divinità soccorrevole e materne ma era anche una divinità che parlava di risurrezione e di eternità offrendo ciò che nella religione romana non sempre offriva ma per comprendere che cosa sia stato l'orientalismo romano e quali siano le sue proiezioni nel mondo di oggi noi dobbiamo dedicare qualche minuto a e concludere a Cleopatra perché Cleopatra ha avuto un'importanza eccezionale la figura di Cleopatra non solo la figura autentica di Cleopatra che possiamo tentare di ricostruire ma soprattutto la figura immaginata di Cleopatra il mito di Cleopatra Cleopatra è un mito ininterrotto come l'Egitto che va dall'antichità ininterrottamente fino ai giorni nostri era già un mito per i romani era già un mito quando era viva quando è morta lo è stato nel medioevo nell'età moderna nell'età contemporanea e fino ai giorni nostri e quindi per capire e fare l'ultimo passo diciamo così dentro l'orientalismo dei romani dentro il rapporto tra l'Oriente e Occidente e il tempo dei romani e quindi percepire anche cosa questo possa significare oggi per noi dobbiamo brevemente cercare di capire come si è costruito e in che direzioni si è costruito il mito di Cleopatra tutti abbiamo in mente una Cleopatra io credo e cui fattezze rimandano a una donna di solito di straordinaria bellezza di fascino straordinario un quadro un film un romanzo una ballerina un'attrice vediamo alcuni alcuni esempi significativi soprattutto partendo dalla pittura che è fondamentale qui vediamo la celebre cropata di questo pittore orientalista Alessandro Cabanel questo è un dipinto del 1887 notiamo subito rapidamente una costante di queste raffigurazioni di Cleopatra la nudità e questa è una scena diciamo di palazzo ma in cui la regina è nuda ora questo è assolutamente normale secondo questo sguardo morboso e moralista diciamo così ma al tempo stesso pieno di attrazione che la cultura occidentale proponeva oppure anche qui questa famosa Cleopatra davanti a Cesare questo è un grandissimo pittore qualche anno prima Jean-Leon Jerome ora vediamo ancora nuda oppure in questo quadro molto indicativo questo è un quadro splendido un pittore italiano Mosè Bianchi quadro del 1865 si addensano in quegli anni questi dipinti è interessante qui vedete che Cleopatra ha anche una pelle ferina è un tratto significativo perché c'è un'aura insomma di barbara selvatichezza in questa rappresentazione quindi i buoni costumi stanno dalla parte dell'Occidente civilizzato come la sensualità o se preferiamo la corruzione morale stanno dalla parte di un oriente percepito come selvaggio dalle cropatre dei pittori sono derivate nella cultura moderna le cropatre del teatro del cinema e del balletto questa è Sara Bernard che molti considerano appunto come una delle più grandi interprete di Cleopatra e questa poi questa Ida Rubinstein interprete di Antonio e Cleopatra si diceva che queste grandi attrici che interpretavano Cleopatra poi vivevano da Cleopatra sembra vero che insomma questa grande ballerina bevesse champagne da fiori in fiori di papiro quindi si rappresentava come una Cleopatra anche nella vita brillante che conduceva oppure questo Teda Bara questo è un film del 1917 Cleopatra un film perduto basta una foto come questa per far comprendere appunto quanto quanto il messaggio sessuale fosse esplicito e poi la censura come sempre in questi casi non fa altro che crescere il successo i passaggi sono tanti ma il mito cinematografico di Cleopatra culmina in Elisabeth Eror che è forse la più famosa delle Cleopatre del cinema questo è il famoso Cleopatra di Manchevici del 63 qui culmina proprio il processo di identificazione del pubblico femminile con il personaggio di Cleopatra con riflessi sulla moda sulla bigiotteria sui vestiti sul trucco disse un critico americano molto acutamente Elisabeth Eror presta il suo bel viso da attirografa americana all'ultima regina d'Egitto in altre parole tutte possono essere Cleopatra queste sono le Cleopatre che rapidamente è una carrerata molto rapida se mi volete torno e faccio una lezione solo su Cleopatra che ci divertiamo moltissimo mi sto candidando provincia di Trento mi diverto mi diverto a stare con voi non è facile non è frequente ora quindi queste sono le Cleopatre che abbiamo in mente sono una una nessuna centomila come direbbe Pirandello ma è possibile recuperare il volto autentico di Cleopatre quindi io vi sto facendo fare dei percorsi un po' oscillanti ma sono fondamentali per comprendere questi fenomeni mi avviso non si può partire dall'inizio e poi andare passo passo banalmente perché si perde un po' anche la drammaticità di questi fenomeni culturali è possibile recuperare il volto autentico di Cleopatra e abbiamo molti ritratti alcuni ritratti di Cleopatra sicuri questo è un ritratto della Cleopatra rappresentata secondo stilemi egizi questo del tempio egiziano di Komombo quindi una località dell'Alto Egitto non lontano da Aswan qui la vediamo è la vera Cleopatra assolutamente no questi sono ritratti che non hanno nulla di realistico e neanche di idealizzato questi sono cliché la regina è rappresentata così quindi sono delle regine non rappresentate secondo i canoni figurativi di una tradizione millenaria che concedeva poco o non concedeva quasi nulla alla rappresentazione fisiognomica di un personaggio quindi il realismo del volto non era un requisito che quest'arte ricercasse abbiamo le monete e alcune importantissime monete con la raffigurazione di Cleopatra volete riprendervi non questa attribuzione è indiscutibile adesso non ho tempo di non ho neanche la vista buona ma insomma la leggenda della moneta dice in greco perché l'Egitto di Cleopatra è un Egitto faraonico quindi con tradizione plurimilenaria faraonica ma è un Egitto anche il lenizzato dove si parla anche in greco e la leggenda dice basilissa Cleopatra cea neotera regina Cleopatra nuova dea qui siamo tra i 37 e i 32 quindi alla vigilia della battaglia di Azio e si trova in una collezione privata londinese ora colpisce per usare un eufemismo la scarsa avvenenza di questa signora gli occhi enormi e sporgenti vedete il naso adunco e spiovente che è tipico però della sua famiglia in mento prominente quindi tipici della famiglia della dinastia torremaica in altre monete meno forte l'impatto però insomma siamo sempre nello stesso ora se noi assumiamo come come queste immagini come le più attendibili e vedete qui sono immagini che Cleopatra ha controllato non è che si emettessero queste immagini senza che lei ne sapesse nulla non sono insaputa quindi le ha viste le ha provate e le ha fatte circolare quindi non è che possiamo pensare che siano così appunto fantasie di un denigratore no? quindi questa Cleopatra non ha nulla a che fare con la bellezza che abbiamo in mente e con le immagini che abbiamo visto però le antichità non ci ha lasciato soltanto immagini ci ha lasciato anche descrizioni una famosa di Plutarco nella vita di Antonio Plutarco ha avuto il nonno che aveva conosciuto Cleopatra quindi è una ottima fonte la sua bellezza dice Plutarco nella vita di Antonio in sé per sé non era incomparabile e tale dal colpire al solo sguardo al solo sguardo ma la sua compagnia aveva una presa irresistibile nell'insieme l'aspetto il fascino della conversazione il modo di trattare con gli altri costituivano un pungiglione che si conficcava nel cuore pensate un po' dolce era il suono della sua voce e la lingua come uno strumento musicale dalle molte corde essa volgeva facilmente a qualsiasi idioma volesse parlare quindi non era bella se pensiamo dell'aspetto fisico ma era bella anzi bellissima per un insieme di cose per i suoi modi seduttivi per il suono della voce che doveva essere incantevole per la sua cultura ampia e versatile che non era comune parlava molte lingue questo non era frequente anche a livelli alti anche a livelli nobili principeschi e poi possiamo aggiungere altri elementi che Plutarco dà per scontati cioè il fascino del potere l'estotismo della sua corte e del suo mondo tutto questo la rendeva irresistibile qual è l'evento esplosivo quello che crea una scintilla e che questa crea un'esplosione di cui ancora oggi sentiamo sentiamo avvertiamo le conseguenze e la guerra l'ultima guerra civile quella tra Ottraviano da una parte Antone e Cropatra dall'altra la guerra civile a Roma portano un messaggio politici di alta intensità quindi parole chiave forme possiamo dire quasi di propaganda per un'epoca che non aveva comunque mezzi di comunicazione come i nostri non c'erano ideologie politiche come pensiamo noi cioè da una parte i ricchi i poveri dall'altra un partito o un altro i coefficienti diciamo ideologici erano piuttosto bassi se compariamo con i nostri però circolavano comunque delle parole efficaci delle parole efficaci e queste parole efficaci diventano armi della guerra civile tra Antonio e Ottaviano non meno importanti delle armi reali che cosa accade che nella divisione del mondo tra Ottaviano e Antonio ad Antonio tocca l'Oriente a Ottaviano l'Occidente Antonio pensava di aver fatto la scelta giusta perché l'Oriente era più ricco comparabilmente più ricco dell'Italia e delle altre regioni quindi possibilità di reclutamento viveri risorse di ogni genere è stato naturalmente un grave errore lui si lega sempre più a Cleopatra e avviene una identificazione tra Antonio e Dioniso perché questi personaggi delle veri civili hanno come riferimenti delle divinità ripeto è un mondo che dialoga comunica politicamente in maniera diversa il personaggio tende ad assumere dimensioni eroiche eroiche in senso semi divine e ad essere come dire avere come termine di riferimento un dio il dio di Antonio è Dioniso Dioniso lo vediamo in questo splendido cratere è il dio del vino naturalmente è il vino della felicità dell'ebbrezza della dimenticanza è un dio che può anche portare un messaggio di salvezza per l'umanità perché promette un mondo dove si soffra di meno dove si possa appunto godere i piaceri materiali ma anche non solo materiali della vita e invece ed era peraltro il dio di Alessandro Magno quindi chi si ispirava a questo dio si candidava ad essere un nuovo Alessandro Magno questa scelta di essere un nuovo Dioniso è stato un disastro comunicativo un autentico un autentico appunto errore gramoroso dall'altra parte Ottaviano che era un genio politico uno dei più grandi siano mai esistiti si rappresentò come Apollo Apollo quindi dio tipicamente diciamo greco italico greco romano questo è il famoso Apollo del Belvedere uno dei più belli esemplari della scultura greco romana il dio degli oracoli certamente quindi il dio della conoscenza il dio che quindi cancellava l'incertezza che aveva cara alla sapienza filosofica e religiosa però era anche il dio che precedeva alla morale e alla disciplina quindi da un lato l'incarnazione di Dioniso dio dell'ebbrezza del lasciarsi andare dei sogni della primavera dei fiori dei colori dall'altra l'austerità romana la morale la virtù la sapienza degli antenati il rigore degli antenati il mos maiorum e questo disastro comunicativo si accenta si aggrava nei comportamenti perché Antonio si lega a una regina che ha difetto di essere donna di essere orientale di essere egiziana in un legame che molti intendono come dissoluto viene presentato dalla parte avversa come un romano degenere un romano che ha perduto i valori che non sa più quali sono i valori della sua patria i valori della sua terra ed è preda dell'Oriente ecco l'Oriente negativo l'Oriente già corrotto l'Oriente che turba inquieta e corrompe talmente talmente dirazzato questo romano da aver ripudiato la sua bella donna bella moglie romana bella bella moralmente non so fisicamente come fosse Ottavia la sorella di Ottaviano che era rinomata e molto popolare a Roma per le sue virtù per le sue virtù romane casta brava madre brava moglie tipica incarnazione della brava matrona romana e che ha umiliato e ha cacciato la moglie romana per prendere una concubina egizia ora se fosse rimasta concubina i romani ci sarebbero passati sopra perché una concubina si può sempre avere ma il problema è che lui ne ha fatto la sua moglie aveva dei figli e si diceva che avesse voluto lasciare questi figli egizi mezzi e mezzi romani addirittura eredi del sommo potere quindi da una parte Ottaviano con la sua pollo austero e dall'altro Attonio con la sua moglie regina meretrix regina come dicevano i romani prostituta perché una regina orientale non può che essere prostituta un romano che si è lasciato irretire dallo sfarzo dei piaceri dell'Oriente ecco come si costruisce l'orientalismo questi motivi cominciano a apparire già nella propaganda dell'epoca questi sono documenti importantissimi questa è una lucerna una lampada ad olio che si trova appunto al British Museum dove vediamo una donna che è Cleopatra cavalcare un coccodrillo e al tempo stesso essere seduta su un fallo quindi una riproduzione satirica di Cleopatra il coccodrillo è l'Egitto come si vede in questa moneta poco più tarda dopo la vittoria di Azzo in cui si vede Egipto capta Egipto femminile in latino l'Egitto preso e il coccodrillo simbolo dell'Egitto quindi l'Egitto ha come simbolo un animale mostruoso non era il simbolo che gli egizi si erano dati naturalmente il simbolo che l'orientalismo romano gli ha dato quindi barbare mostruosità sensualità degenerazione sessuale ora Cleopatra sapete la storia non ve la ripeto si uccide quando comprende dopo la morte di Antonio che Ottaviano non gli avrebbe risparmiato la vita si uccide alcuni fori anatori antichi dicono che si era fatta uccidere appunto con un veleno nascosto abilmente in uno spillone altri che si fece trafiggere da un aspide Ottaviano non aveva dubbi perché quando celebrò il trionfo fece sfilare a Roma una statua di Cleopatra con un aspide attaccato al braccio donna e serpente questo è un altro elemento molto importante come sapete sono una coppia perfetta da tempi di Adamo e Eva ma anche nella morte questo personaggio viene permeato dall'erotismo perché questo rapporto muta perché nella tradizione iconografica medievale già medievale poi moderna e contemporanea non si parla quasi più dell'aspide che morde nel braccio ma l'aspide morde nel seno questo è un splendido quadro di Guiron Redi nel 1635 adesso al prado quindi l'aspide che come è ovvio è un simbolo fallico e viene allattato ma al tempo stesso morde eroticamente Cleopatra quindi c'è questa traslazione da una parte del corpo all'altra che è molto indicativa quindi il corpo morto o morente di Cleopatra offriva la possibilità di rappresentare nudi femminili che in un abbandono sensuale addirittura rimandavano all'amplesso questo è un quadro di Guido Cagnacci della prima metà del Seicento adesso a Milano qui è evidente questo è proprio un orgasmo e poi quest'altro quadro di André Rixen questo del Alto Rosa questo è famosissimo dove vediamo questo splendido nudo di Cleopatra che stranamente è messo in mostra in tutte le sue bellezze la sua bellezza fisica con il appunto è ormai è ormai cadavere ora si è costruito quindi un personaggio si è costruito questo personaggio che è riprovevole naturalmente che è considerato un mostro dei Romani ma rispetto al quale già i Romani provavano un'attrazione irresessibile così come la provavano per la terra di Cleopatra quindi la storia di Cleopatra e di Antonio ha nella cultura occidentale un significato che va ben oltre le vicende individuali appunto e la storia della guerra civile e il simbolo appunto questa è la mia interpretazione di un fenomeno millenario che va appunto sotto il nome di orientalismo quindi è un modo particolare in cui l'Occidente ha guardato all'Oriente così come l'Occidente guardava all'Oriente con il suo sguardo mentale quindi lo sguardo del dominatore certamente il portatore di un'egemonia culturale e morale però molto complicata la cosa perché c'è sì senso di superiorità c'è riprovazione morale ma c'è anche fascinazione c'è l'incanto l'incanto orientalista c'è dominio da un lato c'è giudizio ma c'è anche attrazione e desiderio di straniamento di un mondo desiderio di vivere altrove in un mondo sì che ha quelle morbosità che ha quelle vene inquietanti ma che al tempo stesso è irresistibile l'Oriente incarnato da Cleopatra ha prima attraverso il mondo romano e poi lungo la storia dell'Occidente fino ai giorni nostri ha proposto appunto si è proposto come un paese di incantamenti di di lusso sconfinato di sensualità raffinate di piaceri che da questa parte del mondo non sono possibili di profumi di spezie di notti notti blu con la luna con la luna bianca e luminosa come solo in quella parte del mondo è possibile quindi pietre preziose stoffe oasi e l'Oriente che poi diventerà in nuce questo è l'Oriente che poi diventerà moltiplicando questo impatto e questo effetto l'Oriente della REM e della MAM cioè tutte realtà che l'Occidente coglie nella dimensione della perversione sensuale morale ma al tempo stesso con una sguarda ammiccante e compiaciuto e attratto quindi un Oriente che svela l'universo femminile nascosto svelato che si svela allo sguardo curioso morboso e represso dell'osservatorio occidentale nessuno meglio dei pittori orientalisti ha accolto questa realtà e questo è uno dei capolavori dell'arte contemporanea è un quadro del 1880 di Jean-Leon Jerome de Ben More il bagno vediamo appunto anche nel stesso contrasto dei colori è anche il contrasto dei colori molto importante dunque da questo punto di vista l'Egitto romano questo Oriente dei Romani Cleopatra sono veramente il simbolo di un fenomeno che ci porta direttamente ai nostri giorni e che viviamo ma come lo viviamo è una storia senza fine io 30 anni fa a questa domanda avrei detto sì è una storia senza fine non finirà mai questo tipo di fascinazione ora non lo posso dire più non mi sento di dire più di dire questo perché perché in questi ultimi anni questo fenomeno che ha avuto duemila anni poi vedete io con queste poche immagini ho potuto solo rendere rapidamente conto della ricchezza iconografica e culturale di questo fenomeno ma è impressionante quanto sia presente nella storia dell'arte della cultura occidentale tutto questo cosa è successo che dal 1979 cioè da quando in Iran c'è stata la rivoluzione comunista si è verificato un vero e proprio trauma nella percezione occidentale dell'Oriente e poi il fenomeno si è accentuato nei nostri giorni con il successo dell'islamismo proprio nelle aree in cui un tempo noi immaginavamo il mondo delle mille e una notte ora chi conosce e ama il mondo islamico sa che il mondo islamico è molto più complesso di questo e che ci sono fumature di cultura di sensibilità però non c'è dubbio che le cose siano così e così l'Oriente prima diciamo egizio antico poi musulmano quello appunto fascinoso delle mille e una notte di donne di donne dai veri trasparenti ora invece ci propone donne austere donne velate in maniera diversa che ci richiamano a noi ci richiamano costumi rigorosi e una moralità che è esattamente l'opposto di quella del sogno orientalista quindi non siamo non è questa parte del mondo che impone cerca di imporre la sua morale pur essendo catturato dalla amorale cosiddetta altrui ma è esattamente l'opposto quindi possiamo dire che è finito all'orientalismo certamente quell'orientalismo a mio avviso è finito per sempre però quello che concludendo possiamo dire che certamente nascerà forse un altro orientalismo forse è già nato anche questo forse l'emozione che proviamo vedendo questa immagine è anch'esso una forma di orientalismo bisogna per lavorarci la storia insomma dell'Egitto romano dell'Oriente romano e dunque il paradigma del rapporto tra l'Oriente e l'Occidente quindi di un rapporto in fondo di sguardi come questi che si sono in fondo sempre cercati e incrociati senza mai riuscire a incontrarsi veramente grazie 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 al professor Giardina grazie a voi tutti a me spetta solo il compito di ricordarvi l'appuntamento prossimo cioè di domenica 15 ottobre col professor Franco Cardini al teatro Zantanai di Rovereto 798 dopo Cristo Carlo Maglio l'Elefante e poi ci ritroveremo il 22 di ottobre ancora qui al teatro sociale col professor Amedeo Feniello con San Francesco e il Sultano le lezioni ricordo che sono valide ai fini dell'aggiornamento dei docenti e la partecipazione equivale ad un'ora di formazione si prega a tutti coloro che non l'avessero già fatto di lasciare i propri recapiti alla postazione dell'ingresso grazie a tutti e buona domenica